Ehi là, ciao! Ciao! Guarda, questa è una ragazza, no? Sei fidanzato tu? Ma mi potrei fare fidanzato anche io con questa. Ah sì? Allora, qui abbiamo un mazzo di fiori, un invito a cena e un diamante, ok? Ok. Tu dovrai conquistare questa ragazza. Questa bellissima ragazza. Ok, hai occhio, eh? Bravo, bravo. Cosa proponi? Cosa cominci con il mazzo di fiori, con il invito a cena? Sì, ma è un mazzo di fiori. Un mazzo di fiori, è una cosa classica, insomma, ok? Perfetto, bravissimo, mazzo di fiori lo vediamo alla ragazza. E vediamo se la ragazza accetta il tuo regalo, il tuo omaggio. Vediamo un po'. Oh, ha accettato subito il mazzo di fiori, eh? Mi sa che la ragazza sotto sotto un po' ci sta, eh? Vediamo, vediamo. Ha mangiato il mazzo di fiori. Eh, addirittura. Allora, guarda, abbiamo l'invito a cena e il diamante. Cosa proponi? Con cosa andiamo avanti? Con il vito a cena. Con il vito a cena, con il diamante. Bravo, bravo, bravo. Quanto ne sai, eh? Allora, guarda, vediamo se ha accettato anche il vito a cena. Perfetto, anche il vito a cena è andato a buon fine. Quindi stai a un passo da conquistare questa ragazza. Ok, dal traguardo. A questo punto è rimasto il diamante, questo costicchia un po', però magari ne vale la pena, ok? Vediamo un po'. Vediamo se la ragazza accetta il diamante, eh? Vediamo se l'accetta. Allora, no, non l'ha accettato. Aspetta ancora. Prova, prova a mandargli un bacio, addirittura proprio, eh? Eh, avanti proprio. Vediamo se ha accettato tutto. Ha accettato il diamante e anche il tuo bacio. Quindi, a questo punto, secondo te, è fatta? Eh, secondo me. Sì, sì, eh? Vediamo un po'. Vediamo. Siamo andata ancora in bianco, ti ha mandato. Oh, la miseria, è sparita proprio. Ma sta ragazza mi ha costato un botto. E pure in bianco l'ha mandata. Eh, la vita, la vita, la vita. Sono solo spiegato, oh.